bravo bravo grande fa niente è normale il ferro che fuma dopo quando arrivo che tanto la chiesetta e late la butto giù dall'altra parte tanto a piedi è peggio è peggio a piedi con gli stivali e il coso e allora abbandonagliela qua se non arriva più a piedi lui lascia cala chi lascia gliela qua bello beato grande oggi grande col bastone pure incredibile incredibile e chi fa il cattivo bastonate